di Polizia, nel corso delle quali è stata esaminata la situazione del Comune di Quarto anche alla luce delle vicende citate. In dette riunioni si è convenuto di continuare un costante e attento monitoraggio dell'ente in attesa di conoscere gli ulteriori elementi e sviluppi di natura investigativa. In tale ambito il Prefetto ha richiesto al Procuratore della Repubblica, responsabile della direzione distrettuale antimafia, la trasmissione di copia degli atti allo Stato ostensibili relativi al procedimento penale intentato nei confronti del signor De Robbio. Al momento le notizie verificate e disponibili non consentono concrete valutazioni sull'azione degli organi elettivi del Comune di Quarto che possano condurre alla richiesta di accesso ispettivo finalizzato all'accertamento di eventuali fenomeni di infiltrazione o di condizionamento mafioso. Posso in ogni caso assicurare la massima attenzione da parte delle strutture del Ministero dell'Interno. Grazie, Vice Ministro. Il deputato russo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego, Onorevole. Più che soddisfatto c'è un'altra espressione che fa rima, stupefatto. Stupefatto. Per molto meno altri Comuni sono stati spazzati via e credo che il principio di cautela a tutela dei territori e soprattutto a tutela della legalità debba indurre non ad assumere provvedimenti ultimativi ma provvedimenti ispettivi senza dubbio. Quale cautela, quale attenzione ulteriore, cosa si attende di più, cosa altro deve accadere in quel Comune per svegliare il Ministero dell'Interno. Aspettiamo che la Procura faccia la sua parte e guai se non lo facesse e meno male che c'è. Ma il tema è esattamente questo. La norma che indica viceversa un percorso è una norma preventiva, è una norma che consentirebbe alla pubblica amministrazione, al Ministero dell'Interno, alla massima autorità che deve garantire non la verifica dei reati. Altra cosa, questa appartiene alla Procura e ai Tribunali, al Ministero tocca, toccherebbe devo dire, perché capisco che è distratto, ma immagino che sarà distratto dalle vicende internazionali sul fronte della sicurezza del nostro Paese, ma è distratto quindi, è molto distratto su questo fronte. Noi non vogliamo lo scioglimento, noi vogliamo che ci sia un'attività ispettiva concreta e reale, non il monitoraggio. Il monitoraggio di cosa? Stanno facendo i giornali il monitoraggio, i cittadini lo stanno facendo. Noi pretendiamo che viceversa ci sia un'azione ispettiva vera, che, come è accaduto in centinaia di comuni, vada una commissione di accesso di indagine ispettiva, che misuri le reali vicende, che verifichi ciò che sta accadendo, che relazioni e alla luce della relazione il Ministro degli Interni saprà fare le sue decisioni. Per questa ragione, devo dire, non solo non sono soddisfatto, sono preoccupato e sono preoccupato che, come dire, questo sia un segnale che non va nella direzione giusta. Se è questo il metodo con il quale si vuole affrontare la permeabilità delle organizzazioni criminali nei comuni del nostro Paese, credo sia un metodo sbagliato, un po' troppo prudente, diciamo così, un po' troppo prudente, un po' troppo cauto, e non vorrei che questa cautela e questa prudenza derivasse da una cautela di natura politica, da una cautela da preoccupazioni di natura politica. Noi non vogliamo guardare in faccia a nessuno. Se c'è da guardare in faccia, noi guardiamo in faccia alla legalità come primo valore che vorremmo tutelare. E in questo senso non ci sentiamo garantiti dall'azione del Ministro degli Interni. Grazie. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.213 dei deputati Martelli ed altri concernenti iniziative volte a tutelare le vittime di tratte e di sfruttamento anche in considerazione dei recenti flussi migratori. Chiedo alla deputata Martelli se intende illustrare la sua interpellanza. Prego. Grazie, signora Presidente. Questa interpellanza nasce per avere delle risposte rispetto a un'emergenza di carattere nazionale che riguarda in particolare le giovani donne nigeriane sfruttate con l'inserimento coatto nei circuiti di prostituzione, che confluiscono sempre più spesso nei percorsi dei richiedenti asilo, come peraltro ben rappresentate nel recente rapporto sulle vittime di tratta nell'ambito dei flussi migratori dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Le situazioni di violenza, abuso sessuale.